e pensavo anche io di mettermi qua se no a dia la facciamo fatta se no gliela facciam fare sotto eh se no gliela facciam far sotto eh devi arrivare qua eh dai 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 che ci sono non ti spaventare calmo che quando ho la moto in mano non scappi più no perché di qua è vuoto se vai fuori diritto passi fuori devi sapere che dopo devi tenere la sinistra devi solo stare diritto come ha fatto lui devi arrivare qua bravo a posto perché di qua è vuoto è solo per quello eh ma vai e questa mi butta giù questo e di qua è vuoto eh gli ho detto se ti succede se conta apri no qua ti fai in mare eh scorta ah non puoi anche se vai su queste queste crollano no scendeva molto se ti toccati la pianta eh bravo se tiene sei fortunato il cifone lo farebbe quel lavoro lì eh e se se tiene la pianta se tiene vai vai zio è andata no 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 ma perché mi devi far incastrare ancora a zero nella adesso loro li facciamo andare avanti fino a lì tanto c'è solo quel sentiero qua non puoi sbagliare si fermano lì in fondo noi saliamo e scendiamo dove si fermano loro appena finisce il sentiero perché appena arriva lì fa un pezzettino di salita e si fermano dopo li riprendiamo tanto ci mettiamo due minuti e quella che hai già fatto che c'è il taglio e poi c'è quella appena arrivi in fondo al sentiero c'è una mezza salitina e poi gira a sinistra quindi tutti fermi lì che noi arriviamo giù contro arriviamo giù alle due minuti a farla sempre che qualcuno non si fa fine è tutta tua e che